L'ITS Academy Abruzzo approda a Chieti con i corsi di informatica presso l'Istituto di Istruzione Superiore Pomiglio. È un progetto che diventa realtà grazie ad una connessione tra i vari attori, scuole, istituzioni, aziende, università, una sinergia che punta all'alta formazione. Anche i nuovi corsi dureranno due anni e gli studenti diventeranno tecnici specializzati in servizi innovativi di informatica in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara e Cyber Security in collaborazione con Leonardo in linea con le competenze di informatica più richieste dalla transizione digitale in atto. L'ITS Academy dunque sbarca a Chieti. Presidente Paolo Raschiatore, oggi è una festa? Sì, è una festa perché dimostriamo finalmente nei fatti la vicinanza che l'ITS ha con i territori, quindi non più una realtà locale in un territorio piccolo ma una realtà almeno regionale. Perché questo? Perché noi vogliamo essere vicini alle aziende e ai ragazzi che vivono nei vari territori in modo tale da facilitare proprio questa unione tra il mondo della formazione e il mondo delle aziende e risolvere il più possibile i problemi logistici che questo possono avere. Grazie a Angeloni, dirigente del Pomiglio di Chieti. Che soddisfazione oggi perché si dà un qualcosa in più, un'opportunità in più agli studenti e poi ci si avvicina sempre più a quella che è una scuola di territorio per il territorio. Assolutamente sì, io voglio rimarcare il mio livello proprio grande di felicità oggi perché è un obiettivo centrato, quello di fare col concorso di Confindustria, Leonardo, l'ente regione, l'ente provincia, ossia tutti gli enti e le istituzioni del territorio concorrere a questo livello di formazione post diploma e alla caratterizzazione di questi nostri nuovi due ITS tutti quanti insieme.